La domanda per poter usufruire della rottamazione Quater va presentata entro il 30 aprile 2023, mentre chi decide di pagare in unica rata dovrà farlo entro il 31 luglio 2023 o entro la stessa data dovrà pagare la prima delle 18 rate previste. Alla rottamazione Quater va a diritto chi ha cartelle sattoriali non pagate emesse entro il 30 giugno 2022. L'adesione alla rottamazione dà diritto allo sgravio di sanzioni, interessi ed agi. Alla rottamazione Quater va a diritto chi ha cartelle sattoriali non pagate emesse entro il 30 giugno 2022. Alla rottamazione Quater va a diritto chi ha cartelle sattoriali non pagate emesse entro il 30 giugno 2022.